Una drammatica esplosione probabilmente per una fuga di gas intorno alle 15.30 a Motta di Costa Bissara, lungo la strada provinciale 46 del Pasubio, l'altezza del civico 114, che corrisponde all'edificio che ospita Rossella Guti, che è noto store d'abbigliamento gestito da Rossella Zocche. La donna abita al primo piano e proprio nella sua abitazione ha avuto la deflagrazione che l'ha colpita in pieno provocando le gravissime uspioni. A soccorrere Rossella è stata la figlia che si trovava in una stanza di fianco, l'ha portata in salvo in strada, mentre sul posto arrivavano i vitti del fuoco da Vicenza da Schio, con 12 operatori, due autopompe, due autoponti e l'autoscala. Hanno spento le fiamme evitando un incendio generalizzato. La donna è stata presa in cura dal personale del suo e mi è intervenuto anche con l'automedica stabilizzata e trasferita all'urgenza in ospedale Vicenza dove è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. Sono ora in corso le operazioni di sopralluogo tecnico dei vici del fuoco presente anche il funzionario di guardia per determinare le cause dell'esplosione. Sul posto sono accorsi anche i carvinieri per le indagini del caso.